SONDRIO FESTIVAL SONDRIO FESTIVAL SONDRIO FESTIVAL Però bisogna farlo nel rispetto delle risorse che sono finite, che sono date del nostro pianeta e quindi questo sviluppo deve essere sostenibile nel senso che deve restituire all'ambiente naturale ciò che in un primo momento abbiamo tolto. Il rispetto della natura si apprende già da piccoli? Solo da piccoli. Io faccio questo mestiere perché fin da bambino, 10 anni, facevo per il WWF, Fondo Mondiale per la Natura, appena costituito in Italia, i campi antincendio, la pulizia delle spiagge, i campi antibracconaggio. Facendo questo a 10 anni, eccomi qui ancora a 56, più innamorato che mai della natura e più desideroso che mai di condividere questo amore attraverso i miei programmi e i miei documentari. SONDRIO LE PIACE? Sono arrivato poco prima di salire sul palco, era tutto buio, quello che però ho visto, illuminato e predisposto per il festival mi ha fatto capire che non è soltanto una città che ha una bellissima fama ma è anche una città che appunto dedica molto tempo e molte risorse a una crescita collettiva nel segno della cultura ambientale e della cultura to-cour. Come si risolve il problema emigrazione? Questa è una domanda difficilissima. Io come noto sono un laico ma mi trovo completamente d'accordo con il Papa. Non dobbiamo dimenticare che il benessere del mondo occidentale nasce anche per passate spoliazioni che sono state fatte nei confronti degli altri mondi, soprattutto del sud del mondo. Questo provoca una ricerca spasmodica di nuovi spazi per vivere da parte di milioni e milioni e milioni di persone. Non è un problema solo nostro, non è un problema politico che verrà molto discusso nella prossima campagna elettorale. è una grande emergenza mondiale a cui bisogna avvicinarsi con spirito fraterno nei confronti di ogni essere umano e anche con però quella consapevolezza di un politico tedesco che ha detto con il cuore vorremmo accogliere tutti ma sappiamo di non avere i mezzi per accogliere tutti.